Voglio ringraziare tutto Napoli, perché io vado per il mondo e vedo sempre Diego, il che ama non dimentica e questo si mette nel cuore a me, perché non c'è nessun popolo che mi abbia voluto tanto come vuole. Si è sempre definito napoletano d'adozione, da ieri invece Diego Armando Maradona è ufficialmente cittadino napoletano. Dopo anni di attesa è arrivato il degno riconoscimento per un campione che ha portato Napoli sul tetto del mondo, grazie alle sue mirabilanti giocate calcistiche. La cittadinanza onoraria è soltanto l'ultimo tassello nella vita di Maradona a Napoli. Alle 21 a Palazzo San Giacomo la cerimonia di investitura da parte del sindaco di Napoli De Magistris, che poi ai nostri microfoni ha sottolineato. Siamo contenti che la cittadinanza, il più grande calciatore di tutti i tempi, sia stato dato qua nel palazzo della città, dando il profilo istituzionale. Poi c'è la festa in piazza, Diego ha prima fatto sognare i napoletani e i tifosi e poi ha trasformato il sogno in realtà. Credo che meritava, al di là delle opinioni dei senzienti che rispettiamo, una giornata come questa. Quindi siamo contenti, l'ho visto emozionato, ha veramente Napoli nel cuore e questa è una bella cosa. Subito dopo l'investitura ufficiale da parte del sindaco, è iniziata la grande festa in piazza del plebiscito. Ad attendere Diego oltre 20.000 tifosi, cori, bandiere e striscioni, urlati, sventolate e sostenuti dai ragazzini di ieri, oggi uomini adulti e dai bambini di oggi, che Diego lo hanno potuto ammirare, purtroppo per loro, soltanto dai video di YouTube. Sul palco con lui i campioni di squadra della formazione campione d'Italia 86-87. Diego commosso ha ringraziato Napoli, nessuno mi ha voluto bene come voi. In piazza l'amore per il PIB ed è oro era palpabile. Il ricordo di Diego, comunque il primo ricordo che ho di Diego, anno 1986, città del Messico finale, vinse la Coppa del Mondo. Poi ha onorato il campo, ha vinto due scudette a Napoli, la storia del calcio. Maradona è stato sempre uno di noi, come ha detto lui, dal primo giorno che è giunto a Napoli. Oggi, giustamente, è anche ufficialmente un cittadino di Napoli. Lui, prima di essere uno di noi, siamo noi uno di loro, perché noi siamo nati argentini come lui è nato napoletano. Ma non potevo non tornare, perché per noi è come un fratello. Penso sia una cosa che doveva accadere tanti anni fa e adesso c'è stata una circostanza felice che ha favorito l'evento.